E' tempo che anche la Regione Basilicata riconosca alle persone senza dimora il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie presenti sul territorio regionale. E' la finalità della proposta di legge presentata da Cifarelli e Pittella del Partito Democratico che auspicano che la stessa venga discussa in commissione ed approvata dall'intero Consiglio senza indugio e senza ulteriori tentennamenti. L'iniziativa legislativa ha come riferimento l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. L'importanza della salute come diritto collettivo e non solo individuale, affermano i due consiglieri regionali, rappresenta un ancoraggio valoriale che deve caratterizzare l'insieme dei servizi di cure e assistenza del sistema sanitario pubblico, a maggior ragione in tempi di pandemia ed emergenza sanitaria. A tal fine quindi la proposta mira innanzitutto ad allargare la platea di coloro che possono esercitare il diritto alla salute ma anche a razionalizzare l'uso delle risorse e dei servizi di cura offerti, considerato che di solito e senza fissa dimora in caso di bisogno si rivolgono direttamente al pronto soccorso con un aggravio di costi maggiore rispetto alla possibilità di scegliersi il proprio medico di base. Grazie